Il bilancio è un anno, è stato un anno importante per la città, in primo luogo perché siamo riusciti ad evitare il dissesto e quindi grazie poi al patto per Napoli avviare il percorso di risanamento dei conti e di rinizio degli investimenti sulla città. Tutte le tappe legate al patto sono rispettate, abbiamo finalmente una prima agibilità dal punto di vista finanziario che ci consente di ricominciare a fare manutenzioni in città, manutenzioni stradali, manutenzioni del verde. Un grande lavoro sul PNRR, più di un miliardo di finanziamenti recuperati che verranno cantierati quasi tutti nel 2023, una ripresa della riorganizzazione poi dei servizi delle municipalizzate, ASIA, NM, ABC con la nomina dei nuovi direttori generali, con i nuovi concorsi, con la chiusura dei contenziosi e in conseguenza la chiusura dei bilanci. E poi quelle che sono le prospettive legate all'urbanistica, legate ai servizi sociali, alle attività culturali, grande boom del turismo, momento positivo che ovviamente va canalizzato, rafforzato e bisogna continuare quest'anno con grande energia per raccogliere i frutti del lavoro di preparazione che è stato fatto nel primo anno di consigliatura.